Presi di aderire alla Maratona Teleton ha una valenza e un significato importantissimo, non soltanto per i ragazzi ma anche per gli insegnanti. Direi di sì. Da un lato c'è l'importanza di sostenere economicamente la fondazione Teleton e quindi la ricerca contro le malattie rare, la distrofia muscolare in particolare. Però d'altro canto c'è l'occasione per poter introdurre i ragazzi ad un mondo che a volte in virtù della loro giovane età loro probabilmente non conoscono e che invece quando si trovano ad affrontare quello delle persone che hanno problemi perché spesso le malattie rare portano a gravi disabilità, loro invece affrontano con grande sensibilità e forse si pongono nei confronti di queste situazioni con entusiasmo maggiore di quanto gli adulti non riescono a fare. L'importante però è che un'iniziativa del genere, perché oggi è la manifestazione conclusiva ovviamente di tutte le iniziative che noi abbiamo portato avanti, passa sempre attraverso una riflessione fatta in classe insieme agli insegnanti e tra i ragazzi stessi. E così è stato perché in realtà oggi si celebra soltanto il momento conclusivo ma è almeno da un mese che i ragazzi in classe sono stimolati a riflettere su questo e poi a realizzare tantissime attività perché c'è stato il mercato del giocattolo, dei giocattoli usati ma anche dei giocattoli realizzati da loro e poi ovviamente sono stati venduti e il ricavato poi è andato a Teleton e tanti oggetti che loro hanno utilizzato e i ragazzi hanno partecipato anche mettendo a frutto tutta la loro creatività. Un preludio alle feste di Natale, quindi all'insegna della riflessione e della solidarietà. Certo, è importante perché ogni anno la manifestazione viene organizzata proprio in questo periodo ed è certamente un motivo per iniziare questa riflessione che poi porterà al Natale e quest'anno in particolare, che è l'anno giubilare, il giubileo della misericordia, è anche un'occasione per poter fare una ulteriore riflessione.